Come rispondere alle nuove sfide che il mondo del mare e dei marittimi pone alla chiesa, ai cristiani e alla società civile. Questo è il filo conduttore che ha animato la due giorni di confronto che a Genova ha celebrato i 90 anni dell'Apostolato del Mare in Italia, quella realtà voluta dalla conferenza episcopale italiana nata proprio nel capoluogo Ligure. Nel 1932 erano le condizioni difficili di chi lavorava in mare a far nascere quella che voleva essere una parrocchia, un porto sicuro, una presenza di vicinanza alle persone lontano da casa. Una missione ritrovata oggi con la pandemia che ha fatto scoprire quanto i marittimi abbiano pagato le conseguenze dell'isolamento e della distanza delle loro famiglie. Un impegno a stare accanto soprattutto a coloro che sono maggiormente colpiti dalle difficoltà del tempo presente e che non possono assolutamente essere ignorati. Se è vero che il Vangelo ci impegna a riconoscere la presenza del Signore, né più piccoli né più poveri, noi siamo qui per scoprire i segni della sua presenza e indicare vie da poter percorrere insieme. Pensare al futuro, alle nuove sfide, a riscoprire la dignità del marittimo, il nostro servizio che si deve sempre evolvere per stare sempre attenti ai segni dei tempi e quindi radicati nel passato, ma pensare a come poter fare il nostro servizio della Chiesa italiana nel mondo marittimo per i prossimi anni. Una a due giorni di convegno a Palazzo San Giorgio, impreziosita anche dalla celebrazione eucaristica nella Chiesa di San Vincenzo de Paoli al Fassolo, presieduta dall'Arcivescovo di Genova. Da parte di Monsignor Marco Tasca, l'invito a seguire l'esempio di Maria nel Vangelo dell'Annunciazione, ovvero quello di fidarsi del Signore. Di essere sempre pronti a cogliere i segni che Dio ci dà nella nostra vita. I Santi hanno avuto questa grande intuizione di cogliere i segni che Dio metteva nella loro vita e di aver risposto. Di aver risposto. Allora chiediamo questi occhi, questo cuore, questa capacità di cogliere la presenza di Dio nella nostra vita, perché solo così sapremo essere veramente a servizio. E non secondo i nostri piani, i nostri criteri, quello che ci sembra più giusto, ma secondo quella storia che Dio vuol fare con ciascuno di noi e anche con la stella Maris.